Musica Professore, una delle più belle dediche alle donne passa proprio attraverso il messaggio della prevenzione. Perché questa giornata? È una giornata che ritengo importantissima, anche alla luce di questo particolare esame che abbiamo voluto donare a tutte le donne. Un esame molto importante perché ci permette di poter valutare in un esame non invasivo, quindi semplice anche nella sua effettuazione, la salubrità di tutto l'apparato osseo della persona. In questo momento tra l'altro con anche la problematica Covid noi abbiamo problematiche con la vitamina D, quindi nella carenza anche di vitamina D noi abbiamo altre problematiche ancora più importanti proprio sempre con la mineralometria ossea. La S Roma è stata veramente incredibile, ha permesso diciamo di colore, di allegria e veramente sdrammatizzando anche un pochino quello che è comunque la nostra attività sempre medica vicino al paziente. Quindi veramente un grazie, un grazie di cuore a questa società che sempre è pronta e sempre vicina alle nostre iniziative. Veramente grazie a Roma. È importante essere qui, è importante che il Serafale si sia messo a disposizione insieme alla Roma proprio per coinvolgere le donne in un percorso di prevenzione con un macchinario di altissima innovazione e tecnologia. La prevenzione è importante perché vuol dire da una parte avvicinarsi alle persone, avvicinarle appunto a dei percorsi che siano anche informativi sulla propria salute e farlo con le donne che spesso sono prese da tante cose, dalla famiglia, dal lavoro, sempre spezzate in mille impegni, alle volte dimenticano se stesse. Ecco, la prevenzione, i percorsi per la propria salute fanno parte della consapevolezza che curarsi, guardare a se stesse vuol dire anche essere più attive anche nel lavoro e nella famiglia con però un amore per se stesse che deve essere soprattutto.